Un quadro, un giri, freno e schiacci con il pulsante rosso dove c'è scritto star sul volante. Per accendere, fino a quando lo vedi. Ok, con questa leva noi inseriamo le marce, up shift, voglio dire che aumentiamo le marce fino ad arrivare alla sesta, con down shift scadiamo le marce. Quando tu freni, scala automaticamente. La macchina non si sposta fino a quando tu non metti il piede sull'asservatore, poi tu devi anche il piede del freno e la macchina non si sposta. Va bene, quando noi arriviamo su un incrocio, su uno stop o un dare precedenza, tenendo promuutto il freno, la macchina che si mette in piede automaticamente non si sposta. Un cosmo. Più meno. E un dare. Ok? Sì, sì. Sì, è bella da qui. Bello? Sì, è un sacco. C'è bello, eh? Sì, è l'esca. Sì, è l'esca. È l'esca. Mi spazzato la data su una Posiblicalia. Che piano. Sì. Come sembrano bisogno di piano, eh? Tro watching. E il primo di maschio, E su una levela. Ah, va per scherzo, Ferro da parte. Sì. Gioia la catà? Sì. Sì. È la carta di questa, di meno. De liveto fusilli. In fondo qui, in sinistra, in scala, in altra seconda, in sinistra, si tu adesso freni, guarda la macchia che si mette automaticamente, ah, cambia la scuola. Noi bene, dai, guarda. Noi, 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 guarda. Ah Ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.